I personaggi che hanno fatto la storia del ciclismo, interviste esclusive per conoscere più da vicino campioni e campionesse del mondo della bici, coi loro racconti e i loro aneddoti. A Tu per Tu, la nuova stagione in esclusiva su Bike Channel. A Tu per Tu, la nuova stagione in esclusiva su Bike Channel.